Buongiorno ragazzi, oggi vi voglio dire due cose della Juve, dato che sono un tifoso juventino e qui c'è un grande tifoso qui a Fuerteventura, Corraleco Max, della Juve, e ieri sera ne ha detti di tutti i colori. Dato che ha aperto il calciomercato ancora, Caro Palatici, Rabiot, Ransi, Bernadeschi e qualcun altro che non voglio mettere in visto che adesso non mi ricordo, ma perché non li vendi? Che cazzo te li tiene a fare quei tre bidoni di merda quando potresti prendere a Pogba o a Locatelli, quello che cazzo vuoi tu? Perché? Perché non lo stai facendo? Perché? Io voglio capire solo questo. E quanto a te Andrea Pirlo? Ieri sei remesso una formazione di merda, ma così di merda ad lasciare a Arturo in panchina, io non capisco perché. Non l'hai tirato subito fuori a Ransi, a Rabiot, ma pure Betancurri. Ma io non ti capisco come cazzo fai le formazioni, chiellini, tu c'hai un ragazzo in panchina, non lo so, e metti sto cazzo di vecchio di merda che non se ne va in pensione come a Buffon, non lo capite perché. Che cazzo avete nella testa, caro Andrea Agnelli? Io non lo so, non lo so. Ti posso dire una sola cosa, sono molto deluso della Juve, ma di ieri sera. Io vorrei perdere lo scodetto, la Champions, l'importante è che vincere sempre con l'Inter. Purtroppo ce l'hanno messa nel culo ieri sera. grazie a te Andrea, Andrea Pirlo e Andrea Agnelli. Siete due grandi coglioni in questo momento. Ma io non so che vi devo dire più, questo è stato un video breve che mi volevo sfogare stamattina. Maledetti, maledetti, maledetti cazzo. Va bene, ciao ragazzi.